Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il film di cui parla questa puntata rientra nella categoria di quelli a cui hanno preso parte grandi personaggi per poi ottenere un risultato gigantesco. Cominciamo dalla regia, curata dai fratelli Coen, che adattano un racconto dello scrittore Cormac McCarty. Protagonisti una parata di star, che comprende Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Woody Harrelson, Josh Brolin, Kelly MacDonald. Il titolo è Non è un paese per vecchi. Al ciotro di questa storia troviamo un Reduce della guerra del Vietnam, che una volta tornato in patria nel suo Texas, si è riciclato come operaio saldatore. Un giorno, mentre è a caccia di antilopi nel deserto, si imbatte casualmente nello scambio di una partita di droga finita male, che si è trasformata in un massacro. Intorno a lui soltanto cadaveri, a eccezione di un messicano ferito e una valigetta con all'interno due milioni di dollari. L'uomo prende la valigetta, poi, in preda ai sensi di colpa per aver lasciato il messicano ancora vivo in preda agli spasmi, decide di tornare sulla scena del delitto, ma si accorge di essere seguito da un furgone. A quel punto decide di nascondersi da solo, senza sua moglie, in un motel, consapevole del fatto che è coinvolto mani e piedi in questa brutta faccenda. Lo sceriffo della contea si incarica di investigare e cerca di tranquillizzare la moglie del Reduce, facendole credere di poter proteggere l'uomo, per quanto possibile. Infatti, a complicare ulteriormente le cose, arriva un assassino con un solo obiettivo, recuperare, a qualsiasi costo, la valigetta con il denaro. Un gran bel casino, sceriffo. Bello non lo so, ma certamente grosso. Sto cercando le Wallen Moss. Ha provato nella sua roulotte? Sì. Vuole lasciargli un messaggio? Sì. Se non torno, dia a mia madre che le voglio bene. Tua madre è morta. Allora glielo dirò io. A questo punto si scatena una vera e propria caccia all'uomo, che lascerà una scia di morti ammazzati di cui si perde il conto. Perciò è inutile farci illusioni, lo dico agli ascoltatori e anche ai potenziali spettatori. Se avete una certa confidenza con il cinema di Joel e Ethan Coen, e se avete una certa conoscenza dei libri di Cormac McCarthy, la cosa non vi stupirà. E allora, in questo caso, mi rivolgo a chi non è abituato a un certo cinema ritenuto giustamente da autore. Questo scrittore e questi registi sono soliti addentrarsi nei meandri oscuri dell'umana natura. Talvolta non disdegnano neanche una venatura umoristica, che in questo caso manca del tutto, perché il racconto, a partire dal titolo, lascia ben poca speranza. Però l'unione di questi grandi nomi ha fatto la forza e la differenza, perché non si contano le decine di nomination ottenute nei più importanti concorsi cinematografici. Il film ha portato a casa quattro Oscar, film, regia, sceneggiatura non originale e attore non protagonista andato a Javier Bardem. E poi ancora due Golden Globe, tre premi BAFTA e svariati altri riconoscimenti, compreso il nostro David di Donatello come miglior film straniero. Anche sul fronte degli incassi questo film è stato un successo, perché la sua corsa ha accumulato un bottino di oltre 171 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre è riuscito nella piccola e insperata impresa di inserire il proprio titolo nello slang, cioè nel linguaggio comune di tutti i giorni. Molte volte vi sarà capitato di sentir dire che questo o quell'altro non è un paese per vecchi. Ecco, nasce da questa storia. Non è un paese per vecchi? È disponibile su NowTV e Paramount+. Fazzoletti 4 su 5, Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché racconta un mondo dominato da avidità e violenza, come succede nelle storie scelte dai fratelli Cohen. Buona visione!